Ancora immondizie lasciate in zone non consone alla raccolta rifiuti. Stavolta siamo a Marchesane, precisamente in via Sette Case, zona ex parcheggio sul retro di oro meccanica, sacchetti scaricati contenenti plastica. Un sacchetto addirittura porta il motto difendiamo la natura. Chi ha compiuto quel gesto sicuramente non ha mostrato di difendere il bene più prezioso che abbiamo e che abbiamo l'obbligo di salvaguardare per le generazioni future, ma stavolta il fatto si tinge di giallo. Venerdì 14 agosto, giorno prima di ferragosto, i residenti che ci hanno chiamato dicono che hanno visto un fiorino bianco in sosta nell'area del parcheggio, la zona più in fondo quasi nascosta. Non ci fanno caso ma alla sera per una nuova passeggiata vedono lo scempio dei sacchetti buttati a terra con una tanica, uno stendino, un bancale. Difficile che tutto questo possa entrare in una utilitaria. Il giorno dopo lo stesso fiorino si ripresenta sulla scena, forse per controllare. Che possa essere quello il mezzo incriminato? Sta di fatto che secondo il racconto sempre di alcuni residenti il fiorino con il suo padrone fa ritorno ma preferisce non passare per la strada normale che passerebbe davanti alle abitazioni, ma passa per i campi dove c'è tanto di cartello di divieto di accesso e in fondo gira a destra per immettersi poi sulla strada normale. Insomma un giallo che noi di Rete Veneta per primi vorremmo risolvere. La polizia locale è già stata avvisata ci dicono i residenti. Sta di fatto che le immondizie plastica sono ancora là con vasetti di yogurt, shampoo amorbidente. Sacchetti dell'emisfero, famila, tutto farebbe pensare ad una famiglia ben organizzata che fra le altre cose addirittura differenzia la raccolta per poi buttare la plastica però dove non dovrebbe. Cercheremo di saperne qualcosa di più, naturalmente vi terremo informati su questa strana vicenda che di fondo ha comunque sempre un gesto incivile.